L'agricoltura è una risorsa fondamentale per la Puglia, in particolar modo per l'area ionica, però c'è qui questo dramma della Xilella e quindi questa realtà triste, rovinosa, dell'abbattimento degli ulivi. Siamo con l'On. Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato all'agricoltura. Bene, in che modo il Governo sta cercando di affrontare questa emergenza? Mi pare che l'azione del Governo sia stata un'azione molto chiara, molto incisiva, sia stata un'azione concordata a livello regionale, ma soprattutto con una piena adesione anche dai livelli europei. Al centro abbiamo messo l'impresa Olivicolo, un comparto strategico fondamentale, importantissimo per il Paese, ma anche e soprattutto per la Puglia. Quindi da un lato la produttività, da un lato la capacità di produrre, ma soprattutto mettere al centro l'impresa, l'impresa Olivicola, che oggi vuole tutelare il bene primario che è l'impresa Olivicola, ma non c'è dubbio che oggi stiamo lavorando perché si possa tutelare anche la qualità delle nostre produzioni, e quindi con il pieno concerto della Regione Puglia si possa far sì che si possa superare questa emergenza.